Oggi vediamo come organizzare insieme un esame. Ciao a tutti, io sono Diana, studio medicina al quinto anno in Bicocca e benvenuti e bentornati sul mio canale. Ho uno sfondo un po' diverso dal solito, un po' strano, non fateci caso, e entriamo nel succo del nostro video. Quindi vediamo come organizzare un esame dall'inizio alla fine, quindi vi faccio vedere tutti i passaggi che seguo per organizzare il mio prossimo esame della sessione. Ma prima di tutto sai cosa devi fare? Qui vedi il nickname del mio Instagram, quindi vami a cercare e ricordati di seguirmi. Inoltre ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella perché è gratuito e non ti perderai i miei prossimi video, con tantissimi consigli che potrebbero tornarti utili. Ma ora iniziamo. Allora, partiamo con qualche info. L'esame che devo fare è il 17 di maggio. Oggi è il 30 di aprile, quindi direi che ho comunque abbastanza tempo per studiarlo. Però ho anche tanti impegni ultimamente, tra ripetizioni e tirocini, quindi ho bisogno di iniziare con un po' di anticipo. E in particolare devo fare l'esame che si chiama PMC2, patologia medico-chirurgica 2. È un esame purtroppo che mi porto dietro dal terzo anno, perché non sono riuscita a incastrare le varie date negli ultimi anni. Però è arrivato il momento di farlo decisamente, anche perché mi blocca il TPV che devo fare in Erasmus. Che per chi non lo sapesse è il tirocinio pratico-valutativo che bisogna fare tra il quinto e il sesto anno per poter avere poi la laurea abilitante. Questo esame è un esame formato da quattro moduli, ovvero gastroenterologia, endocrinologia, chirurgia generale e biochimica clinica 1. E sarà un esame orale con quattro orali, con i quattro diversi professori delle diverse materie. È un esame abbastanza consistente, se non sbaglio 9 CFU. Quindi prima cosa che faccio è raccogliere il materiale. In particolare vado a stampare le sbobine, oppure le raccolgo tutte in un file PDF se voglio studiare in modo digitale. E quindi in questo modo scelgo la mia fonte primaria. Come ho fatto a sceglierla? Sia per i consigli che mi hanno dato i ragazzi più avanti di me che l'hanno già fatto, sia perché ho potuto appurare che le sbobine sono state fatte bene, quindi vanno benissimo come prima fonte. Come fonte secondaria per gli approfondimenti oppure per quegli argomenti che non capisco, utilizzo il Rugarli, che è il classico libro di medicina interna. Seconda cosa importantissima da fare è raccogliere le domande, ovvero le domande degli scorsi appelli. Questo perché mi serve? Punto primo per avere un'idea delle cose più chieste, quindi delle cose che devo andare ad approfondire. Molto bene, soprattutto dal libro. E anche mi dà un'idea delle cose che non sono state spiegate, ma che vengono chieste, e quindi devo fare in autonomia dal libro o comunque dalla fonte che scelgo. Successivamente vedo anche un po' a che punto sto nel senso, magari non ho mai aperto la materia, quindi non mi cambia niente inizio da capo, oppure avevo già iniziato a studiare, come nel mio caso. Infatti stavo provando a prepararlo per aprile, però non l'ho fatto in tempo. Però ho fatto in tempo a fare tutta gastro. E infatti ho recuperato tutti gli schemi in cui ho riordinato i vari concetti, e li ho riordinati in base all'ordine delle sbobine e delle spiegazioni. Quindi gastro è tutta raccolta qui, tutta riordinata, tutti i concetti sono in ordine e pronti da essere studiati. E ho già fatto anche le integrazioni con le cose che non sono state spiegate e che però vengono chieste. Quindi mi rimangono da fare da zero, endocrinologia, chirurgia generale e biochimica clinica. E in particolare di queste ho fatto una nota sul Mac con tutti gli argomenti che sono stati trattati. E in particolare man mano che vado a studiarli o comunque a riassumerli, eccetera, eccetera, metto la spunta così so più o meno a che punto sono del mio programma. E poi ho anche un'idea di quanto sono grandi questi argomenti, perché segno anche il numero di pagine, cosa si va a trattare nelle varie materie. Principalmente vedete che endocrinologia è pressoché diabete, con qualche altro argomento qua e là. Quindi insomma mi faccio questa nota in modo tale che io, uno, abbia idea di cosa si va a trattare in questo esame e quindi delle cose che devo andare a studiare. Due, tengo traccia dell'andamento del mio studio. Quindi ho sempre ben presente a che punto sono, quanto mi manca per finire le varie materie. Quindi diciamo che a questo punto per questo esame mi serve studiare il gastro, che è già pronta e riordinata. E magari continuare a fare degli schemi, delle mappe, insomma, quello che mi è più congeniale per quanto riguarda le altre materie. Quindi a questo punto dividerei o la giornata in mattina magari studio delle cose già riordinate e pomeriggio nuovi argomenti. Altrimenti se ho delle giornate un po' impegnate in cui non posso dedicare tutta la giornata allo studio, divido piuttosto la settimana. Quindi magari inizio settimana nuovi argomenti, fine settimana rivedo quelli già riordinati. Che penso sarà esattamente quello che andrò a fare, visto che sono un po' piena di ripetizioni e tirocini. Quindi una volta scelta la fonte, raccolto il materiale, raccolte le domande, quindi abbiamo bene idea di cosa dobbiamo andare a studiare bene o male, comunque in generale quello che viene chiesto, è il momento di fare un plan. Quindi io tendenzialmente uso il calendario di iOS, quindi quello che trovo sul Mac, in modo tale che sia sincronizzato anche sul telefono e io possa guardarlo ovunque io sia, e dove anche mi segno tutti i vari impegni. Quindi so quali sono i buchi in cui posso inserire lo studio. In questo modo posso vedere anche quali sono quelle giornate un po' più libere, che posso dedicare interamente allo studio, oppure quelle in cui magari devo fare degli argomenti un po' più piccoli perché non ho poi così tanto tempo. Perché comunque da studentessa lavoratrice non posso permettermi di decidere di dedicare un'intera settimana allo studio. Devo riuscire a incastrare le varie cose. Quindi, avendo bene idea delle mie giornate e dei miei impegni, posso decidere di dividere i vari argomenti. Infatti io non vado a studiare per pagine giornaliere. O meglio, dalla mia nota ricavo la somma delle pagine che devo andare a studiare, e bene o male le divido per i giorni che mi rimangono, così ho un'idea di quante pagine dovrei fare al giorno. Però più che su un numero preciso di pagine al giorno, mi baso sugli argomenti. Quindi, esempio, devo fare 20 pagine al giorno. Ho degli argomenti che possono andare dalle 15 pagine alle 10 pagine, alle 20-30 pagine. Allora magari gli argomenti da 30 pagine li metto nelle giornate che sono completamente libera. E so che comunque mi sono portata un po' avanti rispetto al programma di studio, perché dovendone fare le 20 al giorno vuol dire che sono in anticipo, più avanti. Oppure vado a combinare quegli argomenti che sono da 15 pagine e magari 5-7 pagine in un giorno. Oppure 10 pagine, 10 pagine, così. Divido per argomenti in modo tale che io sono sicura che quando inizio un argomento lo finisco e non lo lascio lì campato per aria solo perché ho finito le mie 20 pagine giornaliere. E so anche che, bene o male, sto seguendo il mio programma di studio. Quindi sono in linea coi tempi, non sono in ritardo e mi manca il giusto quantitativo di pagine. Rispetto, ovviamente, ai giorni che mi rimangono. E come vado a dividere gli argomenti? O meglio, come vado a decidere quali giorni dedicare allo studio? Tendenzialmente per un esame orale mi lascio l'ultima settimana per rivedere un po', ripetere, esporre tutti gli argomenti. Quindi inizio a contare i giorni che posso dedicare allo studio da una settimana prima rispetto al giorno del mio esame. Così ho bene idea quanti giorni posso dedicare allo studio e facendo la divisione per argomenti in tutti i giorni, in base anche agli impegni, vado a scrivere nel mio planner tutti gli argomenti che devo fare in quei giorni. Così che io mi sveglio e so che il giorno X devo fare l'argomento Y e l'argomento Z. A questo punto ho messo giù il mio planner. Cos'è importante per fare una cosa del genere? È importante rimanere realistici. Non strafare pur di aver l'idea che finiremo tutto prestissimo e avremo tantissimo tempo per ripetere. Perché tanto cosa succederà? Succederà che non riusciremo a rispettare il nostro piano, ci sembrerà di essere in super ritardo, ci riempiremo d'ansia e magari alla fine molleremo la presa con il classico saltellino d'appello. Quindi siamo realistici, abbiamo bene idea dei nostri impegni, di quello che possiamo fare e non possiamo fare. Quindi cercate di dividere il vostro studio nel modo più fattibile possibile. Lasciando anche qua e là qualche giorno cuscinetto. A cosa servono i giorni in cuscinetto? Servono per quelle giornate in cui magari decidete di andare in montagna, di andare allo staglio, di andare al mare, di farvi una gitarella da qualsiasi parte o semplicemente quel giorno in cui state male o non avete minimamente voglia di studiare. E allora diciamo che avendo questi giorni in cuscinetto qua e là non vi si accumula lo studio che non avete fatto in quel giorno. E così riuscite comunque a stare nei tempi che vi siete prefissati. Quindi per esempio io fino al 17 di giugno qualche giorno cuscinetto me lo devo mettere assolutamente perché sicuramente fino al 17 di giugno io non studierò tutti i giorni. Qualche pausa me la prenderò. E questi giorni in cuscinetto mi aiutano sia a portarmi avanti perché magari quel giorno voglia di studiare, sono libera, mi porto avanti col mio programma. Altrimenti avrò quel giorno cuscinetto in cui so che posso respirare un attimo e anche se non studio tutto il giorno il mio programma rimane lì bello, limpido e preciso e non mi si accumulano argomenti con i giorni successivi. Detto questo io ho il mio bel programma di studio e da lunedì si comincia. E penso di avervi dato le basi per poter programmare anche eventualmente due esami insieme. Quindi allo stesso modo magari potete programmare un altro esame da fare insieme. Io consiglio magari un esame grosso e uno piccolino oppure due piccolini e così via. E magari o dividete la giornata facendo la mattina uno e il pomeriggio l'altro oppure dividete la settimana. E considerate lo studio del primo come impegno. Quindi sapete che quelle ore della giornata sono dedicate a quello e lo studio del secondo esame va incastrato nei momenti liberi. Ovviamente ricordatevi anche qua fate tutto in modo realistico. Vi faccio uno spoiler non è possibile studiare 24 ore su 24 o 7 giorni su 7. Quindi ok inserire lo studio nei momenti liberi ma lasciatevi anche delle pause mi raccomando perché non andate avanti e vi si spegne il cervello. Detto questo scrivete qua nei commenti se questo video vi è tornato utile e fatemi sapere se avete anche voi qualche consiglio che può tornare utile a qualsiasi studente per quanto riguarda la programmazione di un esame. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!